Gli attacchi informatici sono un problema globale. Nell'ultima vicenda hanno colpito, tra le altre istituzioni, anche l'Abruzzo, violati i computer di telespazio tra i principali operatori al mondo nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari. Stavolta, dietro l'attacco cibernetico, non ci sono gruppi criminali, ma un giovane 24enne arrestato ieri a Roma al termine di un'indagine complessa. L'hacker ha svolto attività di esfiltrazione, come si dice in gergo, cioè estrazione di dati secretati. Quanto è accaduto è lo spunto per parlare con un esperto di quello che è il problema di fondo legato proprio alla sicurezza. Sentiamo il professor Antonio Teti. Questo evento deve porre ancora una volta in discussione l'aspetto della sicurezza. Noi parliamo di sicurezza cibernetica quotidianamente, ma quel che purtroppo dobbiamo rilevare è che molto spesso strutture che hanno una rilevanza, un'importanza di un certo tipo, molto spesso non sono strutturate in maniera adeguata sul piano della sicurezza cibernetica. Cosa voglio dire? Non basta semplicemente acquistare dei firewall, delle piattaforme software come antivirus, antispam o anche altre infrastrutture che possano creare un sistema di sicurezza sufficiente a garantire gli attacchi di un certo tipo. Bisogna elevare il livello di investimento nelle infrastrutture di sicurezza per fare in modo che queste infrastrutture, soprattutto se particolarmente critiche, non corrano rischi di alcun genere. Questo è un aspetto molto importante. Quindi investimenti, investimenti corposi da parte dello Stato ma anche delle aziende ovviamente private per mettere in sicurezza i propri dati. L'invulnerabilità comunque purtroppo non esiste? No, certamente non esiste. Certamente abbiamo visto e la storia ce lo insegna come anche sistemi appartenenti a strutture particolarmente blasonate poi siano stati violati. Però il fatto stesso che un singolo hacker di 24 anni sia riuscito a penetrare infrastrutture informatiche di un certo livello, questo deve indurci a riflettere sul piano del potenziamento della sicurezza informatica.